di Neymar, allora, mani a forma di cuore tutti, perché così potremo rivedere questa foto tra dieci anni, e io prima di far iniziare il prossimo DJ che penso che metterà al cuore, quindi per quelli che hanno bevuto come noi, allora vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, come ti chiami, come ti chiami? No madonna, signori lui una settimana scorsa lavorava nel live, giuro che mi ha rotto le palle più in dieci minuti e in quattro anni di relazione con la gente da scada, allora, l'ultimo cosa che vi chiedo, madonna tu quanto veramente ne hai rotto le palle, è arrivato presentandosi dicendo, io sono un militare, però me l'ha detto però, no, me l'ha detto, allora ragazzi, siccome stasera è stata una figata per tutti, tu Maya l'hai trovata nella tua donna? Devo fare pure il video ragazzi, ciao, ciao Maya Labate, ti prego non perderti più, perché se no mi rompo le palle, ok? Non è vero domico, non mi fare uccidere, è già... Allora, l'ultima cosa che vi chiedo prima del DJ set finale, saremo stati 1.200 stasera? Voglio vedere 2.400 mani che battono, fatemi un applauso a tutti! Vieni, 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 cosa c'è? Cosa, ti sei emozionato, vieni qui, cosa vuoi? Marta De Paoli, dove hai nato De Paoli? Mi ha nato De Paoli, comunque non è vero, non è vero, non è vero, ho chiesto io al ragazzo che lavoro faccio essere, ma non è vero che fanno militare, giusto? Te l'ho chiesto io il lavoro, è colpa mia, è colpa mia. Marta, vieni qui, vieni qui. Sa, sa, non so, non... Ah, sa con voi, sa con voi, ok. Il problema è che tutto questo momento va improvvisato, non so che finale abbia. Allora, ridere, la verità, non lo so. Mi hanno mandato stasera dicendo di lavorare, quindi non lo so. Cosa devi fare, cosa devi fare? Ah, ok, giusto, venuti a andare tu, vai. allora abbiamo trovato un cellulare controllate i cellulari subito se lo voglio in tasca non ve lo voglio rubare anzi in realtà abbiamo trovato i due allora diciamo i modelli uno è un Samsung rotto l'altro è un iPhone 5C se qualcuno ha uno di questi due cellulari lo controlli in caso qui li lasci li lasciate via avevamo un altro ma non è che ha dovato il mio è ok il Samsung ha dovato lui ragazzi abbiamo il discorso di lui viene al combat viene al combat come come ragazzi io vengo dalla casa popolare non te la prendo no non è vero abito in corso di Buenos Aires ragazzi prima di lasciare il microfono a lui a nome di tutti dai fonici ai lucissi a quelli che hanno fatto la sicurezza a quelli che vi hanno dato da mangiare soprattutto visto che sembravate affamati facciamo a tutti un applauso e vi diciamo grazie ciao a tutti noi siamo la Comac del Segue giochini grazie grazie come la piccola famiglia all'interno di quella grande famiglia che è il nostro corso che si è impegnata più degli altri perché anche gli altri hanno fatto hanno messo del loro per organizzare tutto questo che però non ci sarebbe stato senza di voi quindi fatevi un grosso applauso Siete stati grandissimi, siete stati tantissimi, amici avete fatto un po' magliari, siete tutti accalcati al buffet, volevamo la gente che ballava, niente, volevamo usare questo piccolo momento per ringraziarci fra di noi, io primo con loro perché sono state le persone più collaborative del mondo, tutti quanti, grazie mille e in più particolare volevamo ringraziare lo staff di Panzarotti per l'assistenza che ci ha dato anche se non è qui. Grazie a tutti i nostri sponsor, la nostra catena di comando a partire dai nostri gerenzi di plotone, i comandanti di plotone, 30 acera, 30 d'antimo, 30 cortone, fino ad arrivare poi i comandanti di patoline, i comandanti della scuola che hanno permesso tutto questo, è un ringraziamento speciale ma veramente speciale per una persona che per noi non solo è stato un esempio, un punto di riferimento ma... Un grande applauso per il nostro capitano, il capitano Pazzano. Senza pagliati interioramente. Un abbraccio che ti fregono. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.